Buonasera, ben ritrovati all'appuntamento con il Fatto, ospite nei nostri studi questa sera il difensore civico regionale Umberto Di Primio. Buonasera, avvocato Di Primio che da gennaio appunto ricopre questo importante incarico e che ha organizzato per le prossime settimane a cavallo poi anche delle festività di fine anno e di inizio 2025 una serie di appuntamenti di incontro di approfondimento proprio sulle tematiche legate alla difesa civica per far conoscere innanzitutto agli addetti ai lavori ma anche attraverso di noi all'opinione pubblica quali sono gli strumenti di cui ci si può avvalere. Questo perché Di Primio l'avrà notato in passato da amministratore ma oggi essendo proprio il titolare di questo ufficio che c'è ancora poca informazione attorno alla difesa civica le grandi opportunità che essa offre come punto di ascolto ma anche di risoluzione delle problematiche dei cittadini e delle pubbliche amministrazioni. Intanto infatti lei chiede, approfittiamo di questo spazio per spiegarlo ai nostri telespettatori chi è il difensore civico e a che cosa serve? Grazie. Il difensore civico è un'attualità indipendente della regione ed è l'organo che attende alle questioni che riguardano l'accesso documentale che i cittadini richiedono alle pubbliche amministrazioni cioè lo prevede la legge al 241 del 90 che quando si fa un accesso documentale, cioè si richiede un documento perché si è titolari di un diritto concreto, attuale, si possa avere e ottenere dei documenti quando l'amministrazione nei 30 giorni non risponde alla domanda del cittadino il cittadino prima di fare ricorso al TAR può ricorrere al difensore civico che interviene presso la pubblica amministrazione e poi con una decisione per sancire se quella richiesta fosse fondata o meno o meglio ancora se le motivazioni dell'amministrazione siano realmente ostative alla dazione dei documenti o meno. Così come però anche tanto importante, devo dire, è l'attività che stiamo facendo non legata all'ostensione documentale cioè alla concessione di copia dei documenti ma il cosiddetto intervento generale del difensore civico. L'anno prossimo ricorrono i 30 anni della istituzione del difensore civico della regione Abruzzo, compie 30 anni la legge 126 e quello che ho misurato in questi quasi 12 mesi è proprio la grande richiesta che viene dai cittadini di intervento presso non soltanto gli organismi regionali, penso alle società piuttosto che alle aziende alle AS, molti sono gli interventi che stiamo facendo nei confronti delle AS per quanto riguarda le liste di attesa piuttosto che le prenotazioni o disdette di prenotazioni di visite specialistiche di quello che comporta poi anche tutto il discorso legato al pagamento dei ticket o alle sanzioni che vengono combinate. Così come stiamo intervenendo molto anche sull'area del cratere sull'ufficio regionale per concessioni non date piuttosto che per l'intervento. Diciamo che quindi la competenza è estesa a tutto il territorio regionale, però le amministrazioni che interloquiscono con voi o attraverso voi con i cittadini sono praticamente tutte? Sì sono tutte, noi non possiamo intervenire soltanto sugli organi dello Stato, quindi diciamo sulle prefetture non abbiamo competenza come non abbiamo competenza sui comuni, sulle province, sulla regione, su tutti gli organi della regione, gli enti della regione, ma anche su IMSS, noi abbiamo un importante lavoro fatto con IMSS per il riconoscimento di alcune dei benefici che i cittadini godono, ma noi non interveniamo per dare o meno il contributo richiesto all'IMS, ma interveniamo laddove l'IMSS non dia immediata risposta al cittadino, dove non fornisca informazioni chiare al cittadino, a quel punto il cittadino si rivolge a noi e io intervengo nei confronti dell'IMS, dove ho trovato, devo dire e devo dare atto, anche una grande attenzione rispetto forse ad un, anche lì, una poca percezione di quello che poteva essere l'attività del difensore civico, con un modo garbato, ma determinato, abbiamo fatto in modo che gli enti, piuttosto che gli istituti come l'IMS, l'INAIL, al quale anche ci siamo rivolti, non lasciano andare la lettra del difensore civico, ma si preoccupino di rispondere. Lei quindi ha anche una casistica di situazioni risolte in questi mesi? Sì, noi sul nostro sito abbiamo iniziato a dare anche contezza di questo lavoro, mettendo giù una serie di, ovviamente con l'anonimato per chi si è rivolto a noi, ma vi è una sorta di casistica già stilata di quelli che sono gli interventi più importanti, ne dico uno su tutti, un dirigente di un comune abruzzese importante, attendeva da 18 anni l'elargizione di un premio di produzione che aveva maturato e per il quale aveva addirittura ottenuto una sentenza favorevole e non riusciva ad averlo, siamo riusciti con la nostra attività a fargli finalmente erogare questa importante somma. Dico un'altra, gli accompagnatori di media montagna, le guide, avevano un problema con la gestione degli impianti, nel senso degli abbonamenti, della risalita o meno, anche lì siamo intervenuti, ma molta attività l'abbiamo fatta anche sul territorio per quanto riguarda invece la protezione civile e gli interventi che alcuni comuni avevano omesso di fare in favore di alcuni cittadini e attraverso la protezione civile siamo riusciti a risalire al problema e quindi a dare soluzione. Le dico l'ultima che riguarda sempre la regione, ultimamente abbiamo anche trattato il tema di alcune liste invece di concorsi della AS, soprattutto sull'Aquila, dove siamo intervenuti per rimettere al centro i diritti di taluni rispetto ad una situazione non chiarissima. Abbiamo parlato del sito che è sempre consultabile sul difensore civico Abruzzo, abbiamo visto sullo spot, oltre che il sito, anche i numeri di telefono a cui rivolgersi, bisogna aggiungere perché è sempre bene dirlo, se non è qualcuno che può equivocare, che il vostro intervento non ha spese, è totalmente gratuito. È un intervento totalmente gratuito, il cittadino si può rivolgere senza nessun costo al difensore civico, lo può fare attraverso una mail, una semplice mail, piuttosto che l'indirizzo PEC della difesa civica o anche una raccomandata, o recandosi presso gli uffici della regione, del difensore civico, uno è in piazza Unione a Pescara e l'altro invece all'Aquila in via Iacobucci. Nelle sedi della regione, quindi diciamo che con le amministrazioni che fanno capo alla regione, intesa come giunto il Consiglio regionale, c'è un'integrazione già pronta. Il passo ulteriore mi pare che questo stia particolarmente a cuore come ex sindaco, anche come ex rappresentante nazionale nel Lancia, il rapporto con gli enti locali, dove non da per tutto ci sono uffici del difensore civico, anzi le chiedo anche una piccola panoramica rispetto a chi l'ha istituito e chi meno, non sono tantissimi comuni. Non esiste più in realtà la figura del difensore civico comunale. E' stato sostituito dal difensore civico regionale. Quindi mi aiuta a dire che è scomparsa questa presenza capillare. Per rimediare a questo problema c'è anche questa iniziativa di sensibilizzazione che probabilmente prelude anche a forme di collaborazione tra il suo ufficio e i comuni. Di che si tratta? Io ho cercato di usare, anzi proprio di improntare ad una sorta di moral suasion globale l'attività del difensore civico, che non sono un censore di nessuno e non sono uno che deve giudicare alcuno. Ma ho cercato, anche per la mia vecchia esperienza, spesso di intervenire direttamente con i segretari comunali piuttosto che con i sindaci, invitandoli a mitigare alcune posizioni che spesso sono frutto di una incomprensione. Non c'è la mala fede, come qualcuno pensa, a regnare sempre su tutto. A volte c'è un'incomprensione, soprattutto nei piccoli centri c'è anche un problema proprio di personale che non riesce a star dietro. Poi c'è da dire anche che ho degli affezionati stalker amministrativi, cioè quelli che scrivono a tutti i comuni del mondo per ottenere informazioni, perché oltre all'accesso documentale c'è l'accesso civico generalizzato e semplice, c'è la possibilità di chiedere informazioni alle amministrazioni su temi che sono pubblici, cioè che sono oggetto di pubblicazione, documenti che sono oggetto di pubblicazione e quindi questo è un'attività che può sicuramente essere motivo da una parte di controllo generalizzato, diffuso dell'attività della pubblica amministrazione che è quello che il legislatore intendeva perseguire, ma allo stesso tempo può essere un motivo di appesantimento per le pubbliche amministrazioni che si vedono arrivare richieste anche spesso molto poco praticabili e quindi nasce lì il contrasto. Con le giornate di studio della difesa civica regionale io ho ritenuto di poter portare all'interno delle istituzioni un momento di approfondimento sulle norme e sull'attività, nei confronti dei cittadini cercare di dare consapevolezza, cioè creare la consapevolezza dei loro diritti, ma anche indicare le strade che sono possibili da percorrere per ottenere, per esercitare quel diritto che la legge loro riconosce, ma l'ho rivolto anche al mondo delle professioni, tant'è che i convegni che abbiamo organizzato hanno il patrocino di molti ordini professionali, da quelli degli avvocati a quelli degli architetti, degli ingegneri, alcuni collegi come quello dei geometri, quindi vuol dire c'è un'attenzione, abbiamo cercato di creare un'attenzione, è il coinvolgimento delle università che continuano ad essere la più grande risorsa di questa regione in termini di produzione culturale. Allora io ho voluto coinvolgere, ho coinvolto l'università di Chieti Pescara e quella di di terro per il momento e abbiamo insieme elaborato questi tre momenti di primo approfondimento. Poi ce n'è un altro su quale sto lavorando e che è motivo anche di interesse nazionale, sto cercando di portare nel coordinamento nazionale dei difensori civici l'idea della uniformità della norma regionale che ci appartiene, perché ogni regione in realtà ha legiferato in modo pressoché simile ma non uguale. Allora quello che voglio cercare di fare, chiaramente è difficile perché si tratta di intervenire sulle assemblee elettive di ogni regione, ma quello che voglio cercare di fare è far diventare la legge del difensore civico di ogni regione uguale, in modo che il cittadino sappia che quella figura, che è una figura riconosciuta dalla legge nazionale, è istituita dalle leggi regionali e è uguale in ogni parte d'Italia. Ma i convegni servono proprio a questo, approfondire, far conoscere, avvicinare i cittadini alla pubblica amministrazione e non far percepire la pubblica amministrazione come un molosso che non dà ascolto. Allora i convegni, vi leggo rapidamente il calendario, si svolgeranno a Chieti, a Terra e all'Aquila, quindi ho coperto un po' tutto il territorio regionale. Il 4 dicembre, quindi la prossima settimana, si comincia all'Università di Chieti parlando della trasparenza e dell'accesso agli atti. A Teramo, nel polo didattico dell'Università, il 12 dicembre lo Stato dell'Arte nel diritto di accesso in materia di urbanistica e appalti, quindi un focus specifico su questo tema e poi sugli strumenti in generale di partecipazione e difesa dei diritti del cittadino si discuterà all'Aquila il prossimo 16 gennaio. Questo rende un po' l'idea di primio proprio del range di attività che vengono svolte in supporto da parte del difensore civico ai portatori di interesse. Qual è l'obiettivo complessivo, ripeto, proprio nel far decollare in Abruzzo questa figura che, diciamo, ne parliamo noi oggi, ne abbiamo parlato in passato anche con il compianto avvocato Morra che ha dato un grande impulso a questo ufficio, però è ancora poco noto. Si tratta soprattutto di dare la comunicazione giusta in particolare agli addetti ai lavori, quindi amministratori e professionisti. Io credo che ci sia intanto un gap di conoscenza in negativo da parte dei cittadini, cioè non tutti sanno, anche se devo confessare, che con meraviglia ho potuto vedere come in questi mesi si è cresciuto il numero di persone che si rivolgono al difensore civico, quindi inizia a conoscersi. Per far questo, ecco, io la ringrazio tanto per l'opportunità di oggi, ma abbiamo realizzato un video, un cartoon, proprio per far comprendere in modo semplice ai cittadini quello che è l'attività del difensore civico e quelli che sono i diritti che loro hanno. Ma abbiamo anche voluto aprire delle pagine social che oggi avvicinano ancora di più ai cittadini, sia su X che su Instagram che su Facebook, dove metteremo anche i casi in modo che la gente possa riconoscersi in quei casi che noi pubblicizziamo per vedere se la loro situazione può essere di interesse del difensore civico. E poi abbiamo bisogno anche di formare il personale dei comuni, perché la differenza tra l'accesso documentale, cioè il richiede del documento e l'accesso civico per avere informazioni è enorme, riguarda lo stesso tema, riguarda l'attività della pubblica amministrazione, ma da una parte c'è un interesse diretto, personale di chi richiede, dall'altro l'interesse è diffuso, perché si chiede un'informazione, la chiede quel cittadino, ma in realtà è un'informazione di interesse generale che misura la qualità, l'attività dell'amministrazione, di quell'ufficio, di quell'ente. Quindi l'obiettivo è proprio questo, rendere più nota possibile l'attività del difensore, rendere consapevoli i cittadini della forza che loro hanno utilizzando il diritto che è loro concesso e rendere le amministrazioni professionisti sempre più formati e sempre più aggiornati su questi temi. Benissimo, io ringrazio il difensore civico Umberto Di Prima, pensando di aver fatto anche un po' la nostra parte in questa mission comunicativa che riguarda questo importante ufficio che è appunto a tutela dei cittadini, delle persone che hanno a che fare con la pubblica amministrazione, siano professionisti, siano imprenditori, siano semplici cittadini, utenti della sanità, della scuola, di tanti altri momenti in cui c'è una domanda di notizie, di chiarezza, di documentazione nei confronti di un'amministrazione e questa non trova risposta. Anche il difensore civico è un'opportunità da considerare. Grazie ancora e buona serata, arrivederci. Grazie.